Incidente mortale tra Flumini e Buger, un giovane centauro inglese di 26 anni ha perso la vita nello scontro frontale con un'alfa condotta da un uomo della zona. Al Coa lavoratori in occupazione, lo stop della trattativa sulla vendita dello stabilimento e il silenzio della politica hanno portato gli operai a una nuova azione di protesta. Donne in lotta, depositate tre nuove istanze in comune, abbattimento dei costi per l'utilizzo del suolo pubblico, riduzione delle tariffe SIAE per le attività commerciali e adeguamento del rapporto parcheggi-multe sono le richieste dell'Associazione di Carbonia. Special Olympics in 700 per la prima convention regionale, emozioni e riflessioni per la prima tappa di presentazione delle attività. Obiettivo numero uno, raggiungere tutti i paesi della Sardegna per offrire ai disabili la possibilità di esprimersi e lavorare in team. Ben ritrovati su Canale 40, c'è stato un incidente mortale nella strada che collega Flumini Maggiore a Portigedu, nel comune di Bugerru. A perdere la vita è stato un motociclista inglese che viaggiava con altri centauri. Il ragazzo, 26 anni, è morto in uno scontro frontale con un'alfa guidata da un cittadino di Bugerru che è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto in una zona di campagna e vista la gravità delle condizioni del giovane turista, in un primo momento è stato allertato anche un elicottero che è partito da Macomere, ma secondo quanto riferiscono i carabinieri di Glesias intervenuti sul posto per i rilievi, oltre ai sanitari del 118, sarebbe tornato indietro perché il centauro, dopo due arresti cardiaci, era ormai deceduto. Cambiamo decisamente argomento. Trattativa arenata e il silenzio da parte della politica sono questi i motivi che hanno portato alcuni lavoratori al COA ad una nuova azione di protesta occupando lo stabilimento. Le interviste sono di Manolo Murendu. È calato il silenzio sull'avvertenza al COA, vi siete organizzati per occupare di fronte allo stabilimento? Sì, abbiamo deciso di darci appuntamento qua stamattina, proprio per questa storia, proprio perché non si sente più niente, neanche a livello regionale, soprattutto a livello politico. Ed è questa, tentiamo di fare una vera occupazione il più a lungo possibile, chiaramente. La politica, diciamo che, la politica in generale è un po' disattenta. Da quello che sappiamo, per via traverse, pare che i tavoli stiano continuando ad esserci, però noi non sappiamo niente, vorremmo sapere qualcosa di più. A livello regionale, soprattutto, perché come abbiamo detto quando siamo andati a Cagliari a dare il benvenuto a Pigliaru, al nuovo Presidente, al Governatore, noi siamo con lui. Se lui è con noi, noi siamo con lui. Fino adesso, per dirla tutta, non si è proprio fatto sentire più di tanto, insomma, e quindi vorremmo anche da lui qualche risposta, insomma. Niente, questa è un'iniziativa degli operai, visto che questa vertenza sembra quasi dimenticata da tutti. Siccome noi non ci stiamo, perché ormai siamo lì, siamo arrivati alla fine, perché dal primo giugno, e qui 30 operai, di quei 60 che sono dentro, verranno messi fuori, quindi siamo arrivati. Noi vogliamo capire, da parte anche del sindacato, vogliamo capire di che morte dobbiamo morire. Non ci stiamo più, come adesso, così, due mesi, tre mesi, senza che sappiamo niente. Noi siamo qua. Alla spicciolata arriveranno tutti, sarà un'occupazione a oltranza, perché a quanto sappiamo, né dal governo, ma tantomeno dalla regione, ancora non ci sono state risposte, almeno agli incontri, per capire cosa si può fare di questa zona, di questo polo industriale. Vediamo adesso un servizio relativo ad una nuova iniziativa del Movimento Donne in Lotta, che questa mattina ha depositato in comune tre stanze su diversi argomenti. L'abbattimento dei costi inerenti, l'utilizzo del suolo pubblico, la richiesta di intervento da parte del Comune per la creazione di un consorzio tra le attività commerciali, in modo anche da favorire un accordo con la SIAE in merito all'organizzazione di eventi musicali dal vivo e infine sul tema parcheggi e multe. Vediamo. Cristina Bulegas, Movimento Donne in Lotta del Sulcis, due stanze per chiedere? Per chiedere che il costo del suolo pubblico venga drasticamente ridotto per dare così la possibilità alle attività commerciali che ne facessero richiesta di ammortizzare meglio le spese e contribuire concretamente all'offerta dei servizi e all'intrattenimento in città. E poi chiediamo che venga anche abbattuto il costo della SIAE, che il Comune intervenga presso la SIAE per promuovere un accordo globale valente per tutte le attività commerciali interessate, che possa permettere di abbattere drasticamente i costi. In tal modo le attività commerciali potrebbero consorziarsi tra loro nel pagamento della SIAE. Il Comune potrebbe partecipare con la sua quota. Atiuscia Solinas, Movimento Donne in Lotta del Sulcis, un'istanza presentata all'amministrazione comunale? Sì, è un'istanza sui parcheggi a pagamento. Qui a Carbonia ci sono numerosi parcheggi a pagamento delineate dalle strisce blu. Questo parcheggio si paga a tempo determinato, però se si sfora oltre l'orario si paga una multa abbastanza pesante. Quindi, non siccome il Ministero dei Trasporti ha dato delle nuove disposizioni, lascia ai Comuni la facoltà di intervenire sulla materia. Quindi noi chiediamo di essere uguali agli altri Comuni che pagano solo la differenza. Invece qui, se vai oltre l'orario, paghi ben oltre le 27 euro di molta. E quindi non capiamo perché loro sono diversi da noi. Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale. La Regione ha assegnato al Comune di Gonnesa un milione di euro per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e favorire l'occupazione. Il servizio è di Tamara Peddis. Una boccata di ossigeno per il piccolo Comune di Gonnesa. Dalla Regione sono in arrivo un milione di euro per l'incentivazione di nuovi insediamenti produttivi, di attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e dell'innovazione delle imprese operanti. Il finanziamento è destinato a micro, piccole e medie imprese e anche a quelle di nuova Costituzione, con l'obiettivo finale di favorire l'occupazione. Il Comune di Gonnesa ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per quanto riguarda i progetti POIC. Insomma, una cifra abbastanza rilevante per il piccolo Comune. Sì, una cifra importante, consistente per le micro e piccole imprese del Comune di Gonnesa. Le domande possono essere presentate fino al 15 giugno. Un milione di euro messo a disposizione sono finanziabili da 15.000 fino a 50.000 euro, rimborsabili a tasso zero, nessuna commissione, nessuna spesa. Il problema vero in questi tempi è quello di avere liquidità, da parte delle banche, le quali, nonostante ci siano imprese anche solide, non sganciano un euro, non sganciano una lira. Allora il problema è trovare il modo di consentire le aziende di avere risorse per poter fare investimenti o anche quelle di nuova Costituzione per potersi costituire e restituire i soldi senza interessi di nessun tipo, senza commissioni, addirittura partendo dal sesto mese o addirittura dopo un anno, dal momento nel quale viene elargito il contributo che viene richiesto. Una cosa importante per un Comune di 5.200 abitanti come in Gonnesa certamente un milione di euro è una bella cifra, speriamo che serva a dare ossigeno all'economia comunale. Ecco, per quanto riguarda l'attività imprenditoriale del Comune, è molto viva, attiva? Quante imprese ci sono? Le partite IVA insediate a Gonnesa sono 140, non sono tantissime, sono certamente una cifra consistente, in altri tempi erano molto di più. Gonnesa è uno dei paesi come tutti quelli del sulci siglesiente che soffre una crisi assolutamente feroce. C'erano tantissime ad esempio attività che lavoravano nell'edilizia, anche specializzate, molto brave, molti bravi artigiani che lavoravano il ferro e il legno e naturalmente la crisi di questi tempi segna un po' tutti, per cui bisogna darsi da fare per cercare risorse che consentano a quelli che ancora stanno in piedi di sopravvivere, di avere una mano di aiuto e a quelli che vogliono costituirsi, soprattutto ai giovani, fare in modo che possano aprire nuove attività. Per discutere e capire come le imprese possono accedere al finanziamento, venerdì 9 maggio alle 18, il Comune ha organizzato un incontro pubblico a Solivarium con gli amministratori e funzionali della Spirse, la finanziaria regionale. Dal 1 maggio ha riaperto a Sant'Antioco l'Infopoint turistico provinciale. Si tratta del servizio di accoglienza dei turisti che scelgono il sulci siglesiente come meta turistica. L'Infopoint situato in via Caduti di Nassiria offre ai visitatori tutte le informazioni utili sulle attività di promozione e commercializzazione della destinazione dei relativi prodotti anche durante eventi e manifestazioni. Ancora informazioni sui servizi turistici, sulla recettività e sulle attività culturali presenti nel territorio della provincia di Carboni Iglesias. Per tutto il mese di maggio gli orari di apertura saranno dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 mentre resterà chiuso il lunedì. La biblioteca comunale di Carbonia ospiterà venerdì 9 maggio le 18 la presentazione del libro Rivendita numero 5 di Paolo Tolu. L'iniziativa voluta dall'assessorato alla cultura del comune di Carbonia in collaborazione con il sistema bibliotecario interurbano del Sulcis rientra nel più ampio progetto Carbonia scrive. Il ciclo di appuntamenti con gli scrittori della città e con coloro che scrivono della città. Alla presentazione interverranno l'autore Paolo Tolu, l'assessore alla cultura del comune Loriana Pizzalis e la giornalista Ambra Pintore. L'associazione culturale Sischiglia con il patrocinio del centro servizi culturali della società umanitaria presenta oggi la conferenza del dottor Pietro Aste che parlerà del tema diagnosi, cura e prevenzione dell'herpes. La conferenza avrà luogo come di consueto nel Salone Vegliospano in via della Vittoria con inizio alle 17.15 e ingresso libero. Oltre 700 persone hanno partecipato ieri a Cagliari alla prima convention regionale della Special Olympics. Vediamo il servizio. Oltre 700 persone hanno partecipato ieri a Cagliari alla prima convention regionale degli Special Olympics. Atleti, famiglie, volontari e istituzioni erano presenti all'incontro nel corso del quale sono stati illustrati i progetti che coinvolgeranno gli atleti speciali nel corso dell'anno. È stata una mattinata particolare, una mattinata densa di emozioni ma soprattutto piena di felicità per la verifica di questo percorso che ormai si sta facendo da tempo e che dimostra quanto sia cresciuto, quanto sia maturato il Team Sardegna e quanto abbia fatto sul territorio e quanto ancora sia in grado e possa fare. Noi vogliamo appoggiare il Team Sardegna con tutte le nostre forze e vogliamo che i team che compongono Special Olympics in Sardegna possano crescere ma soprattutto che possano aumentare gli atleti e che possano partecipare a queste manifestazioni tutti gli atleti con disabilità della Sardegna. Una giornata intensa, quella di ieri fatta soprattutto di importanti riflessioni per ribadire ancora una volta la mission di Special Olympics raggiungere i disabili di tutti i paesi della Sardegna. Oggi c'è stata la prima convention di Special Olympics in Sardegna, un enorme successo perché c'erano circa 700 persone per una prima occasione di confronto, di testimonianze, di sentimenti, di emozioni e tutto quello che crea Special Olympics. Quindi è stato un momento molto importante, c'erano responsabili dell'area atleti, dell'area famiglie, dell'area volontari e tantissima gente, moltissime istituzioni. Quindi veramente un gol qui in Sardegna. Dopo tanti eventi sportivi organizzati è anche un momento di riflessione, è stato un momento molto molto importante. Un momento importante, tra l'altro accolto in maniera molto positiva da tutte le istituzioni, sia civili che militari, che sono sempre forti sostenitori della nostra mission Special Olympics. E come abbiamo detto durante questo momento di incontro, l'obiettivo è quello di raggiungere i tanti paesi in Sardegna, di portare e di accendere la fiaccola Special Olympics e di far conoscere anche lì e di dare un'opportunità alle tante persone con disabilità intellettiva che ancora non ci sono. Special Olympics vuole arrivare sotto casa degli atleti, vuole far sì che ogni atleta con disabilità intellettiva possa fare sport vicino a casa sua, quindi possa avere l'opportunità di dare il meglio di sé, di provare emozioni ma anche di condividere, di integrarsi con gli altri vicino a casa sua. Quindi quello che stiamo cercando di fare è di mettere una bagnerina in ogni città della Sardegna, così come nel resto d'Italia, per far sì che il messaggio di Special Olympics arrivi veramente a più gente possibile. Importanti collaborazioni affiancano l'attività di Special Olympics, una su tutte, quella offerta dall'MSP, movimento sportivo promozionale che si prepara già per nuove manifestazioni. Per noi la Special Olympics ormai siamo dieci anni che collaboriamo con loro come enti di promozione sportiva, le siamo molto vicini. Come ho detto prima la conferenza che c'è stata, saremo disposti quest'anno a collaborare ancora di più, essendo più vicini e l'MSP da mettere a disposizione le sue risorse per organizzare due manifestazioni gratuitamente per la Special Olympics che meritano questo ed altro. E chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport, ha fatto il punto della situazione per noi Antonio Pistis. Finisce la stagione dei dilettanti, ma prima di stilare i promossi e bocciati bisognerà attendere il verdetto degli spareggi. Anche le sulcitane non possono andare tutte in vacanza. In promozione c'è ancora il Sant'Antioco di Miledo che dopo essersi in posto sul Carbonia già salvo per 3-2 in casa grazie a Pilloni e Lenzu dovrà misurarsi nella sfida play-out di quarto in casa del Sant'Elena che raggiunge sul 2-2 il Silico in trasferta. I guartesi come Granata a quota 29 per la classifica a Volsa sono avvantaggiati dalla differenza reti generale per cui giocheranno in casa il match con i sulcitani e con due risultati su tre. Non sono previsti i rigori in caso di parità infatti anche dopo i supplementari. Il regolamento è in favore di chi è meglio piazzato in classifica. Completa il Narcao che pareggia in casa per 1-1 con la Ferrini. In prima categoria play-out che tocca il Gonesa, 31 punti finali, ma in casa con il Cuscagliari a 28 che vince all'ultima Carloforte per 1-0. Anche in questo caso con due risultati su tre potrebbe bastare un pari ai bianco-verdi di Broi e compagni. L'escalaplano chiude il quintultimo a 31 punti e si salva per la differenza reti battendo in casa per 7-1 il Porto Scuso. La ferma senti KO per 2-1 con il Sadali, Andromeda Trattalias non disputata. È Dulcis in fundo, la Monteponi già campione, i numeri record con un solo KO e quattro pareggi, 25 vittorie, si sono confermati anche a Guspini contro una con pagina sportivissima, prima, durante e dopo. Non sono mancati esperimenti e spazio ai giovani, Rubiani, Loddo, Podda e Pilu, due esperti che hanno garantito il primato, per l'ultima lasciano posto in campo a Mattia Foti, Congia, Murru in gol su rigore, Pittao sta filata vincente sotto la traversa, un super marongio in porta da titolare, più l'esordio di Marco Ecca e Simone Tommasi, entrambi del 97, giusto premio in casa dei secondi. Le altre reti di Sanna, 22 totali, Musiu che chiude a quota 11 e Capitan Foti nel 5-2 in casa dei secondi, i Sulcitani chiudono a più 7 sul Guspini, ora impegnato col girasole nel primo turno dei playoff in campo neutro. In seconda categoria ha brillato un'altra formazione di Iglesias, quella di Andrea Marras, capace di un campionato di alti livelli con esperti ma anche tanti giovani, pareggia nello scontro diretto per 1-1 contro il Sarroc che con il punticino esterno passa in prima categoria. Ora il primo incontro playoff in casa del vecchio Borgo Sant'Elia per l'Iglesias che spera ancora. Merita una citazione anche il Sant'Adi del duo Serpi-Daga che chiude con un ottimo terzo posto la stagione dopo il 3-1 a Villa Sor, dopo aver vinto tutti gli scontri diretti in casa e in trasferta, rimane Lamaro in bocca per aver buttato via punti contro squadre di bassa classifica. Diversi giocatori che hanno brillato dal noto portiere Eros Pinna al giovane ma già molto richiesto Michele Manca per continuare con Luca Usai, vero trascinatore, 13 golle e 15 assist, un giocatore che sembra avere anche tanti margini di miglioramento. Ottimi anche Nicola Serra con 13 gol e Paolo Meloni. Il nostro telegiornale termina qui, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. Per domani nel Sulcis sono previste poche nubi. Il vento soffierà da sud-est con intensità di 7 km orari, possibili raffiche fino a 15 km orari. Temperature minime comprese tra i 7 e i 12 gradi e massime comprese tra i 20 e 24 gradi.